Frank Valli, Grease 8 e 07, questo è il Crystal History delle 8 qui su Good Morning Milano, Good Morning Milano, Crystal Radio 96.2 FM, Dub Plus, ed è qui con noi dopo la sua sigla, lei... Sono il gatto sul tetto che ascolta, tutto come fosse la prima volta, con la faccia a tv... Più a radio, continuo a dirlo... È necessario... Sì, 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 sì... Quelli baffi all'insù... Senza baffi, senza baffi... Non lo so, te l'ho già detto Verdi, 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 una gioia lasciata e me la... Se vi piace, chiamatemi... Silvia Gatti Grazie, wow, che introduzione, buongiorno a tutte e a tutti, è venerdì finalmente Eh, thanks God, it's Friday E il nostro dire c'ha la febbre, ha deciso di impestarci tutti, ma non importa, tutto bene, no? Ti vedo già sudato, hai la terza camicia, seconda tipo... Ho cambiato la camicia, sì Molto bene, ma la bella notizia di oggi, oltre che è venerdì, è che c'è un ospite pazzesca, chi l'ha trovata? Io, Silvia Gatti, chiaramente abbiamo in studio la dottoressa Vittoria Pietra Buongiorno a tutti Buongiorno dottoressa, buongiorno La quale è una matta col botto, ma lo dico nel senso buono, perché ieri, no? Non male, non male come presentazione, non male Non male inizio Lo sa cosa intendo, perché ieri ci sentiamo per il consueto colloquio telefonico per mettere giù due cosine, una pista linea da seguire E la dottoressa mi fa, no ma io parlo tantissimo, voglio tante domande e andiamo a braccio così Improvvisiamo Molto, molto bene, vero dottoressa? Benissimo, io ormai ho un decennio che improvviso Però sono un decennio Bravissima Prima volta che qui con noi, ma in realtà diciamo che la sua presenza si era già sentita, no? Questa spissione con noi, giusto? Perché te lo ricordi il dottore Alberto Mattia di Pantarai? Certo che sì Mica ci ha fatto un bel podcast con la nostra dottoressa psicologa, lei mi è, psicologa? Psicologa e psicoterapeuta Allora qua ce n'è di bisogno, molto bene, quindi poi ci metteremo d'accordo con vari bigliettini da visita Il numero della gatti ce l'ha già, quindi è questo Volevo dire che prima il direttore Fabio ha detto che io non ho bisogno di un dottore ma di un veterinario Ma questo è un altro discorso Comunque, ecco, questa è la linea E pensa, gli voglio anche bene E mi pensa se non me ne volessi o non me ne vorrebbi La dottoressa mi ha detto ci diamo del tu, del lei e io le ho detto volevo darle del voi In realtà optiamo per il tu, tutti, va bene Fabio? Va bene Cominciamo così Allora, dottoressa, intanto cominciamo dalle cose più serie Questo podcast pazzesco che lei fa con quell'altro matto col botto di dottore Mattia Alberto In che cosa consiste e soprattutto volevamo sapere, ma com'è che vi siete conosciuti? Allora, com'è che ci siamo conosciuti? Non ha tanto a che fare col podcast, ma è una storia molto interessante Era lontano 2004-2005, quindi tanto tempo fa, vent'anni fa Io lavoravo in un ospedale di Milano che si chiama San Paolo E lavoravo in pediatria e in psichiatria come psicologa E un giorno arriva una coppia di genitori con un ragazzo sui 16 anni E mi dicono, noi abbiamo avuto un'avventura particolare Abbiamo l'impressione che il nostro figlio aveva bisogno di un aiuto Ed effettivamente aveva bisogno di aiuto ed era Alberto Che cosa era accaduto? Che tutta la famiglia si era trovata coinvolta nello tsunami del sud-est asiatico del 2004 26 dicembre 2004 E Alberto nei mesi successivi, come ovvio ed è naturale che sia Aveva qualche problema d'ansia Aveva dei pensieri un po' ricorrenti Delle immagini che gli tornavano Per cui si sono rivolte all'ospedale di loro zona E c'ero io E quindi l'ho conosciuto vent'anni fa Fra l'altro Alberto per primo ci ha raccontato della sua esperienza Quindi non stiamo dicendo cose troppo private sulla sua esperienza Insomma, è anche una cosa bella Che comunque si parli delle proprie difficoltà Si parli del fatto che ci si può e ci si deve rivolgere a un professionista Quando si hanno problemi di ansia Di qualsiasi altra natura psicologica, psichiatrica Migliora la vita, aiuta a capire come siamo fatti Quindi è una bella cosa che Alberto ci abbia detto Ci abbia raccontato di questa sua esperienza E che si sia appunto rivolto a lei Si è rivolto a me All'epoca ci siamo visti per un po' Poi lui mi ha ricontattato un po' di anni fa E da allora diciamo che è una sorta di amicizia, collaborazione Counseling, terapia, cose varie ed eventuali E a un certo punto, siccome Alberto e io condividiamo una cosa Siamo due abbastanza allergici ai luoghi comuni E detto di questa così è veramente insopportabile come frase Però la devo dire E quindi ci piace molto fare divulgazione un po' Se vogliamo un po' controcorrente Quindi questa cosa ce la dicevamo da tanto tempo E ci siamo detti scriviamo un bel libro Siamo tutti e due che amano scrivere Io non avevo il tempo Forse lui un po' di più Lui scrive anche molto velocemente Per cui qualche mese dopo Mi ricontatta e mi dice Ho trovato la soluzione d'oro Facciamo un podcast Perché scrivere è più lungo e impegnativo Certo Facciamo un podcast, un video podcast Ed è nata così Nel senso che ci siamo detti quattro cose Noi ci conosciamo da vent'anni Per cui abbiamo, mi viene da dire improvvisato Lui ha scelto, abbiamo scelto insieme Un percorso che partiva dal rischio E finiva con la gioia e il successo 21 episodi che sono tantissimi Tantissimi ho scoperto E niente, noi ci presentavamo nella sala di registrazione Praticamente senza quasi sapere io almeno Qual era l'argomento della giornata E quello che veniva, veniva fuori Diciamo che con una conoscenza di vent'anni Ci vuole anche, non dico poco però Non bisogna preparare granché A volte basta una piccola scintilla Una parola, un tema E poi si chiacchiera come dico sempre Nel senso più bello del termine La chiacchiera non è per forza leggera Senza senso, anzi Ricordiamo però come si chiama questo podcast Il podcast si chiama Human Human scritto You, Human Cioè tu, uomo Dove si può ascoltare? Si può ascoltare su Spotify E si può vedere su YouTube Basta Di cosa improvvisate? Su che temi improvvisate? Allora la traccia è Alberto ha trovato per ogni argomento Il rischio, la crisi, la vergogna, la speranza C'è anche il vaso di Pandora In epoca precedente E poi c'è la vergogna Poi c'è la resilienza Poi c'è la gioia, il successo Il senso di colpa La reputazione, la continuità, la negazione Questi sono gli argomenti L'ansia Su ogni argomento Alberto ha trovato due citazioni Più o meno erudite E quello era il là Era il là dell'inizio E il là della metà Poi da lì il dialogo si svolgeva Come si svolgeva Io quello che ho scelto di fare Dopo un po' Ma in realtà lo faccio anche in terapia Con i miei pazienti E se mi ricordavo E se trovavo dei miti Collegati Per esempio il vaso di Pandora Vabbè era evidente Ma il tallone d'Achille Eccetera Perché sono molto esplicativi E perché ci raccontano la nostra storia Quindi li inserivo E devo dire che le persone L'hanno molto apprezzato Perché o non li conoscevano O non se li ricordavano bene E poi io sono molto attenta All'etimologia delle parole Ho studiato greco Mi piace tantissimo Per me è una lingua Veramente che mi illumina E quindi Insisto molto Sull'etimologia delle parole Detesto le parole Dette veramente a caso Mi danno molto fastidio E' nel posto giusto Dottoressa Mi piace No però si dice No improvviso La butta giù così facile No no C'è dietro C'è dietro C'è dietro C'è uno studio pazzesco È un'improvvisazione Ragazzi ben fatela C'è una preparazione Che è qualcosa Che noi ce la sogniamo Ma certo Ma va bene così Noi invitiamo persone migliori Fabio Il nostro mestiere è quello Trovare le persone migliori Di noi Scovarle E farle Venire qui In modo che possano influenzare In maniera positiva Gli altri Siamo un po' tutti influencer Siamo tutti influencer Non offendiamo eh Voglio dire Anche in casa Un genitore Influenza i figli Siamo tutti influencer Adesso influencer È una parola Che va usata Con molta parsimonia Perché qua c'è un casino Perché è quello Che dice la dottoressa Le parole bisogna usarle Nella migliore Nella loro giusta Connotazione Conlocazione Conlocazione E effettivamente Influencer ormai È diventato invece Tutt'altro Quando invece Insomma È vero Tutt'altro non lo so È meglio dire Content creator Ecco Non lo so Ecco La dottoressa Pietra Non ha i social però Vogliamo dirlo Non ha i social Quindi non mi trovate Da nessuna parte Cos'è questa scelta Però È una scelta Per qualcuno Che però Fa un po' oltre Quindi comunque Potrebbe Voler divulgare No La informa Alberto Divulgo dal vivo Io divulgo Pazzesco My real Nel senso che Divulgo nel mio studio Faccio divulgazione Nel mio studio Faccio formazione Quando mi invitano A fare formazione La comunicazione Per me Ha un emittente E un ricevente Quindi già il fatto Che io un ricevente Non lo vedo Non mi è simpatico Per cui la comunicazione Così spread Nell'etere Mi interessa molto meno Non È un po' atipica Sei un po' atipica Sono molto atipica Però ci piace così Però Alberto Ti informa comunque Sull'andamento Del podcast Sugli ascolti Perché lì si vuole avere Anche un ritorno minimo Perché sennò Si sta parlando con un muro Invece siete seguiti Comunque Non lo so Sì sì Non fare la modesta Ha fatto No no Ditemelo voi Perché io non lo so Non so neanche a quanti Seguaci siamo Non ho idea Seguaci adoro Non lo guardo anche Perché non avendo Instagram Non saprei come Far vedere Comunque A proposito di social Di internet Fra poco parleremo Del fatto che Tu come tante altre Professioniste e professionisti Durante il covid Il lockdown E la pandemia Avete usato Diciamo Questo mezzo Per Parlare E seguire comunque Le persone Che magari Non si trovavano Troppo bene Passiamo a un po' di musica Arrivano in Nirvana Con Smells Like Teen Spirit Anni 90 Grunge Perfetto In onda su Crystal Radio Milano All News Con Good Morning Milano Nirvana con Smells Like Teen Spirit 8 a 22 minuti Qui su Crystal Radio Good Morning Milano Ancora qui Con Silvia Gatti Buongiorno ancora Siamo ben contenti Di riuscire Finalmente Ad analizzare Silvia Gatti E magari Trovare una soluzione Alle innumerevoli Pensa alle tue Soluzioni Mi hai presa tu qui Quindi ti faccio solo Ricordare questo Questa è la giusta risposta Mi fa capire Una sessione di gruppo Ma sì Infatti Mi fa capire Che qualche problemino Forse ce l'ho Comunque Silvia Dicevamo Sì Siamo qui Con la dottoressa Vittoria Pietra Amica E quasi collega Di Mattia Alberto Alberto Mattia Anzi scusate Nome e cognome Di Pantarei Che è stato qui Per due volte Per parlare Di come si affrontano Le crisi A livello aziendale Abbiamo parlato anche Del vaso di Pandoro Nel quale lui ha collaborato Scrivendo circa cinque pagine L'ultimo libro appunto Di Selvaggia Lucarelli Ma abbiamo invitato Anche la dottoressa Perché insieme Ad Alberto Ha fatto anche Un interessantissimo podcast Che potete visionare Su Youtube E su Spotify Si chiama Youman Ma vogliamo sapere Di più anche Della professione Della dottoressa Che comunque È psicologa E psicoterapeuta E si occupa quindi Assolutamente Di salute mentale Senza social Abbiamo detto La dottoressa Non ha social Ma ha dovuto Per forza ricorrere All'internet Alla rete Durante I lockdown Quando non si poteva Uscire di casa Ma la gente aveva Se non forse Più bisogno Del solito Di aiuto E assistenza psicologica Esatto Raccontaci Vittoria Cos'è successo In quel periodo Allora Cos'è successo In quel periodo Lo sappiamo Un po' tutti Ma c'è una cosa Che vorrei sottolineare Che mi aveva Molto colpito All'epoca Ovvero Quelli che Durante la pandemia Mi hanno chiamato Contattato E mi hanno chiesto Di venire dal vivo Io in realtà Un po' Ho visto delle persone Dal vivo Quelli che proprio Mi hanno detto Io vengo solo Se noi ci incontriamo Di persone Indovinate che età avevano I più giovani I giovani Ma dai Ecco Questo è proprio La riprova Questo è l'inizio Della riprova Che la boiata Dei nativi digitali È proprio una boiata Nel senso Che non sta in prima A me è un'idea Completamente sbagliata Completamente sbagliata Loro patiscono Moltissimo Questo Patiscono moltissimo Il risultato si vede Diciamo che Le impennate Dei disturbi psichiatrici Degli accessi Ai pronti soccorsi Dell'aumento Della depressione Dei disturbi alimentari Secondo me Noi dovremmo Un attimo riflettere Su questa cosa E dirci Ma perché Ma non è stata la pandemia Perché la pandemia Ha segnato Che non sono riusciti A fare la gita E sono rimasti Chiusi in casa Peraltro chiusi in casa I giovani Con le famiglie Che volendo Potrebbe essere un problema Però voglio dire Non è che erano Sole e abbandonati La fascia d'età Un po' più in difficoltà Era 25-35 Con quelli che erano single Però i ragazzi L'hanno patito molto Il covid Per tutta una serie di ragioni Che in realtà Sono ampie E diversificate Quindi Non so Se è il caso Di affrontarle o meno A me quello che ha colpito È che loro Ci tenevano moltissimo Mi dica Quando va a buttare La spazzatura Che quindi è in cortile Io vengo in quel momento lì Ma me l'ha detto più di uno E ho iniziato A farmi un po' di domande Su tutto questo mondo Digitale e tecnologico Che secondo noi Per loro è confortevolissimo Dove ci sguazzano Ed è una trappola Dalla quale Fanno molta fatica ad uscire Però comunque sì Diciamo I mezzi Tecnologici Ci hanno Digitali Non so neanche come chiamare Tecnologia vuol dire Tutt'altro Ci hanno Permesso di rimanere in contatto In quel caso lì Ho attivato Messenger di Facebook Ho attivato Skype E Basta direi Basta Non sono molto Tecnologica Neanche io in questo senso Però sono contenta È uscita perché è estremamente facile Non è difficile È un po' troppo facile È un po' questo il tema Ah troppo? Accedere? Ma la domanda che proprio Uno si fa però Ma funziona comunque Poi la terapia Funziona tantissimo Funziona comunque Ero molto più scettica E con i pazienti nuovi Il fatto di vedersi con le gambe Direi che è meglio Però con i pazienti Invece che erano già in cura Diciamo Ok Ha permesso un Come dire Un salto ancora più vicino Intanto perché ci si vede Da molto più vicino Ovviamente Perché normalmente Io ho un po' di distanza Ci si vede da molto più vicino Si captano molte più cose Ci sono degli sfondi Che se vogliamo Sono più domestici Quindi danno una dimensione Diversa Una rotondità diversa E poi comunque Era un momento di crisi Quindi le persone Erano più scoperte Ed erano più Comunicative Mi viene da dire Più spaventate Più comunicative In cerca di maggiore conforto Perciò ha funzionato benissimo Ottimo Ad oggi Non è che me lo chiedano Proprio tantissimo Me lo chiedono Nel caso in cui ci siano Trasferte Viaggi O cose del genere Per cui In realtà mi rendo conto Che è sempre più piacevole venire E c'era costanza C'è costanza Nella richiesta di aiuto Nel continuare La propria cura Terapia Costanza nel senso Continuità Nel senso che Loro Proseguono Iniziano Ma poi Vede che c'è bisogno Andrebbero avanti il paretio Vedo che c'è bisogno Più di necessario Anche forse Più di quello che loro pensano Se vogliamo questo Le persone arrivano Al primo colloquio Che hanno Quella che noi chiamiamo La teoria della malattia E la teoria della cura Cioè hanno una teoria Sul perché stanno male E hanno una teoria Del come possono guarire E quindi arrivano spesso Facendo delle richieste Molto chiare Io sono troppo triste Non voglio più esserlo Oppure Non voglio essere così sensibile Normalmente sono queste Io ho degli accessi di rabbia Io ho troppa paura E io dal primo colloquio Vedo un'altra cosa Nel senso che Se no non sarebbe il mio lavoro Nel senso che io vedo Altre cose che a me Interessano di più E quindi se vogliamo Poi è un po' Una contrattazione Per cercare di portare fuori Quelle cose lì E a volte si prendono Delle strade diverse Che erano inaspettate All'inizio Per il paziente Ma molto Proprio perché Sono sorprendenti E molto interessante Va avanti più a lungo Se vogliamo Se io facessi Applicassi il manuale Arriva uno con gli attacchi di panico Perfetto In 12 sedute Non c'è nessun problema Lo risolviamo Facciamo Arrivederci Grazie Ho risolto tutto Sarebbe un po' piatto Un po' modello americano Ah ok Vede A me Su di me Non è che attacchisca molto Ma io lavoro da 25 anni Certo Probabilmente Lavorassi da 5 anni Mi piacerebbe tantissimo Adesso come ho detto Io improvviso Improvvisa Tra virgolette Anche durante appunto Una seduta No assolutamente Perché io non so Che cosa mi portano Le persone Quindi o sono pronta O sono pronta O ho un'idea O leggo qualcosa O leggo Nel senso vedo Comunque non segue La strada Che loro vorrebbero Già portarle Che loro le portano Lei tira fuori altre cose Che magari loro Non stanno vedendo 10-15 minuti Normalmente è così Dopo il primo quarto d'ora Io tiro fuori due cose All'inizio Vedo le persone Un po' Stupefatte Perché mi dicono No ma questo per me Non è importante Non ne voglio parlare No ma infatti Lo ritiro fuori Dopo altri 10 minuti E uno dice E uno dice Ma io non avevo mai pensato Così Però lì dentro C'è già la chiave Del successo Quindi è molto Come si può dire Non gratificante È molto Tranquillizzante È la strada giusta Sì perché poi Tante persone Arrivano e dico Qua non finiremo mai Io ho una vita Complicatissima Lunghissima Tantissime cose E io quello che spiego Le persone È che normalmente Noi abbiamo In tutta l'umanità Due o tre temi Di vita centrali Sono sempre quelli Ma dai Che peraltro Condividiamo con la gran parte Dei mammiferi È molto semplice Allora Mi insegniamoci La prima parte Mi dici quali sono Questi due o tre temi Globali dell'umanità Va bene Non credo che ve lo dirò Ve lo dirò È separata sede Dobbiamo pagare una seduta Bravi Io mi metto In fila allora Andiamo con un po' di musica Adesso è il momento Di Gali con Paprika E poi torniamo qua Sempre a parlare Con la dottoressa Avanti con la musica Gali Paprika Shiny Happy People E-Ram Alle 8 e 37 minuti Siamo qui su Crystal Radio Good morning Milano Stavamo parlando di salute mentale Benessere mentale E un po' Fuori onda con la dottoressa Stavo parlando un po' anch'io Perché dicevo Ma non è che ultimamente Se ne parli Anche forse un po' troppo Di salute mentale O meglio che Si spettacolarizzi Un po' Il tutto Allora sono d'accordo Se ne parla troppo Questo un po' A me mi spaventa Perché Come tutte le salite Così impennate Poi ci sarà Una caduta verticale Nel senso che Noi I miei colleghi Veniamo invitati Dobbiamo sempre dare Un'opinione su tutto A un certo punto Le persone Non ne potranno più Cominceranno a dire Vabbè Mi curo per i fatti miei C'è una cosa Sì c'è una cosa Secondo me Che ha reso Che è quello che accade Nella nostra vita Normalmente Una cosa che era sacra È diventata profana E questo è un passaggio importante Tutti i social Fanno esattamente Questo lavoro qui Il sacro È ciò che è Un po' nascosto Non toccabile Da tutti Il saccellum È ciò che È per pochi Il profano È ciò che è davanti Ed è visibile a tutti Che è uno dei motivi Per cui io non amo i social Perché toglie sacro Per me Sacrificarsi O rendere Il sacrificio È fare sacro qualcosa Cioè renderlo Privato Importante Denso di significato Profano È visibile a tutti C'è una spettacolarizzazione L'abbiamo visto anche Con i Ferragnez Con Siamo entrati Nella stanza della terapia Più e più volte Sicuramente Può essere servito Per togliere un po' Questo timore Delle persone Che dico Oddio Entro lì dentro Cosa mi metteranno Degli elettro Di cosa succederà Sono spaventatissimo Però poi Che è molto banalizzato E ha creato Delle aspettative Che poi non si Io vedo poi Lei non hai social Per vedere Ma mi sono conto Che molti anche Nella bio Che hanno su Instagram Così mettono Anche la diagnosi A volte DHD Oppure borderline Cioè che Non c'è niente Da vergognarsi Ma forse È un po' eccessivo Anche quello Nel mettere in piazza Non è più sacro E ciò che non è più sacro Non è più curato E questo è il punto Ciò che è sacro Viene curato Con cura Con attenzione Ma ciò che è profano Alla portata di tutti Diventa spazzatura Anche perché Metti ADHD Però non metti Se c'è la luce valgo Cioè questo Che vuoi capire Non è che metti tutto Non è che metti tutto Cioè quello è il problema Non è il senso Posso portarvi Però un esempio A me invece A me è piaciuto molto Il fatto che Siano stati Dei protagonisti Dei social Dei personaggi Che hanno Un po' Fatto vedere Loro stessi Anche nel loro disturbo Ovvero Lei dice Sacro e profano Io invece La vedo come nascosto Di cui vergognarsi Pinna Ok Andrea Pinna Un influencer Sardo Che cominciò A fine anni 2000 Quindi con MySpace I primi social È diagnosticato Diagnosticato bipolare Quindi E ne parla Non minimizzando O banalizzando Ne parla naturalmente Portando delle esperienze Proprio anche molto forti C'è tutto su web Ha parlato anche Di aver provato Più volte A togliersi la vita E io questa cosa Non la vedo Uno spettacularizzare La cosa La vedo come Tu Che mi stai guardando Che sei un ikikomori Ad esempio I ragazzi che si chiudono Non in casa Ma in una stanza Della casa Non ti preoccupare Se ti vuoi uccidere Se non ami la vita Perché Probabilmente Può essere Che tu abbia Un disturbo psichiatrico Non è finita Devi però Farti curare Va ristabilita Una certa Mi perdoni la semplificazione Chimica del cervello Probabilmente Quindi andate A farvi curare Andate a chiedere aiuto Ecco forse C'è una linea Fra lo spettacolarizzare Il banalizzare E il vedere Che uno che ti piace Che ti fa ridere Da dieci anni Da dieci anni dice Io volevo ammazzarmi Un giorno mi sono svegliato Come i pazzi E ti fa pensare Magari Un pinna Più un pinna Che Mi scusi Più una Vittoria Pietra Hai capito cosa intendo Hai capito Fabio Cosa intendo Forse se te lo dice Fedez Al salone del libro di Torino Purtroppo È quasi meglio Anche se poi ho sentito Che parecchi psicologi Si sono lamentati Di questa cosa Le diagnosi Non sono dinamiche A quel punto Sei categorizzato E questa roba È pericolosissima Per i ragazzi Per quella fascia d'età In cui io sono Abbastanza Abbastanza In evoluzione E sperimento cose diverse Se incomincio a definirmi Una DHD È finita Cioè Non sto rendendo conto Dei cambiamenti Dell'evoluzione Che io avrò Nell'arco di 4, 5, 6, 7 anni Cambierò parecchio Non vuol dire che diventerò Un'altra persona Però La mia personalità In qualche modo Si evolverà Dare una diagnosi Agli adolescenti È un crimine Da certi punti di vista Allora Un conto è se la comunità O il network Ne parlano tra di loro Perché gli aiuta A capire anche meglio Il farmaco Piuttosto che Il risultato terapeutico Ma con il punto Siamo tutti alla ricerca Ormai sono saltati Poi i confini Però appunto Dal vostro mondo E l'altro mondo fuori Che invece ormai Sono completamente Mischiati Cioè confini Non ci sono più Cioè gli specialisti Parlano con i pazienti Ma i pazienti Riportano a Ma anche le situazioni Immagino Perché poi adesso La dottoressa su questo È a mio parere Giustamente critica Ma poi ci sono anche Tanti altri colleghi Che invece Vanno invece A festival O a fare situazioni Dove trovi anche L'influencer di turno Il PIN Che ti racconta L'esperienza sua Che ben venga Che ben venga Ma che non dovrebbe Essere la bibbia Di quella roba lì Non credo voglia esserlo La bibbia Lo diventa Non deve essere il modello Può essere l'esperienza Il tema è che Tutte le persone Che parlano Diventano dei modelli Adesso Non è più un racconto Di un'esperienza Che invece Mi arricchisce Mi fa pensare a delle cose Aspetta che tendo A quella roba lì Lei ha iniziato A fare la sua professione Immagino Prima dell'avvento dei social Più o meno Io mi sono specializzata In psicoterapia Nel 2005 Sono laureata nel 97 Ecco quindi Non c'erano ancora Questi social No non c'erano affatto Cioè tutto da rifare Nel senso cancellarli completamente No 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 Cioè quello che avete studiato Quello che avete Viene completamente ribaltato Per colpa dei social Oppure Ma no I social sono Di una semplicità E di una leggibilità E banalità estrema Accessibilità Nel senso che noi siamo convinti Che ci sia un mondo nuovo È sempre la stessa storia Nella storia Nella storia dell'umanità Non abbiamo ancora inventato Niente di nuovo Non c'è stato nessun cambiamento Se vogliamo il mezzo Cambia Ma la comunicazione Tra esseri umani È sempre la stessa Non è che se io sono Unichico Mori Sto comunicando in maniera diversa Una roba che non esisteva Cinquemila anni fa Esisteva cinquemila anni fa Il precursore Di Chiara Ferrar Il precursore Era Alessandro Magno Alessandro Magno Ha fatto la stessa cosa Arrivava prima La sua reputazione E quello gli apriva Le porte delle città Per cui gli veniva data La chiave della città Ha conquistato il mondo È morto a 33 anni Ha fatto delle cose incredibili Se uno ci pensa Niente di nuovo Non stiamo inventando Niente di nuovo I filoni Sono dei mammiferi Sono sempre gli stessi Perché l'evoluzione È sempre la stessa E se così non fosse Noi non potremmo fare Questo lavoro Perché ogni caso Sarebbe strampalato Alcuni specialisti Dicono che appunto L'avvento digitale Però abbia proprio Cambiato un po' L'essere umano Quasi anche a livello organico Diciamo Ha cambiato niente Cerebrale Se vogliamo la postura Di utilizzo del cervello Sono molto aumentati I disturbi Della spina dorsale Questo sicuramente E disturbi visivi E un aumento Di crisi epilettiche Ma questo è collegato Alla velocità Dei lampi Che io vedo E che seguo Alla velocità Dei giochi Per il resto Non è cambiato niente Io sono attirato Dalle stesse cose I bambini Sono molto più visivi Sono tattili E visivi I bambini Prendono tutto Con le mani E guardano Fondamentalmente Gli adulti Riflettono Pensano Non hanno assolutamente Bisogno di vedere Continuamente La meditazione Se vogliamo Un po' più Sull'interno E forse Usano meno Le mani Usano tutto il corpo Ditemi qual è la differenza Della adesso Per questo che io trovo Che in realtà I social media Siano abbastanza primitivi Nella loro forma La cosa più divertente Quando spiego ai miei pazienti Che le app di dating Sono esattamente Quello che loro chiamano Il terzo mondo Perché esiste Solo in India Questa cosa Che tu Mandi una foto Leggi Altezza Peso Colore della pelle Perché in India È importantissimo Per poter combinare Un matrimonio La gradazione Di colore della pelle Colore della pelle Più o meno La nascita Quindi da dove Arrivano le famiglie Quando ti devi sposare Arrivano un po' di curriculum Tu inizi a selezionare Sulla base dell'immagine Dopodiché Che è il punto importante Vai da un pandit Un prete Il quale mette insieme I pianeti E ti dice Su 36 case Almeno 18 Devono combaciare Che è uguale All'algoritmo Che ti matcha Con qualcun altro È uguale A quel punto Tu che cosa fai? Ti contatti Swappi Qual è la differenza? No è vero Effettivamente ragionandoci Non ce n'è È il terzo mondo Con tutto rispetto Per il terzo mondo Perché quando io vado in India Mi danno sempre Dei terzo mondisti Mi dico Certo che voi siete Proprio un paese Del terzo mondo Tra poco parleremo Anche del tuo rapporto Con l'India È molto interessante Quello che hai detto Non avevo mai sentito Matchare l'India Con Grindr e Tinder E tutte le app di incontri Sono scioccata Sto volando È una cosa primitiva Bella Bellissima È un ritro Sto stiamo tornando indietro A me Fa anche simpatia Adesso poi mi devi spiegare Questo amore per l'India Allora dove arriva Adesso mandiamo una canzone E poi facciamo un bel viaggio in India Allora va bene E allora andiamo quanti con Dua Lipa Con Training Season Dieci minuti alle nove Bentornati in diretta con noi Di Good Money Milano Milano All News Alla redazione Siamo in onda anche su Crystal Radio Sono qui con il direttore Fabio Ranfi E la nostra super ospite di oggi La dottoressa Vittoria Pietra E adesso andiamo Voliamo in India Perché ci ha fatto appena Nell'intervento precedente Un interessantissimo Paragone fra Quello che succede in India Quando si organizzano i matrimoni E quello che succede qui Quando vogliamo matchare Sulle varie app di incontri Continua Vittoria È lo stesso meccanismo No È proprio lo stesso meccanismo Nel senso che Scelgo un profilo Vedo una foto Leggo quattro dati E nel caso dell'India È un prete Che mette insieme le case Dice ok 18 su 36 sono compatibili Potete incontrarvi Nel caso delle varie app Sì invece c'è un algoritmo Ma come mai tutta questa Conoscenza in India Tutta questa conoscenza in India È iniziata nel 2010 Dove sono andata per la prima volta E da allora ci vado Uno o due volte all'anno Regolarmente E ho anche dei pazienti indiani E sono in contatto Quasi quotidiano Con i miei amici indiani Per me è una È antropologicamente È stato interessantissimo Sì Non misticamente Perché a me l'aspetto mistico Dell'India Non attecchisce Non mi interessa E non lo trovo un paese mistico Per niente Lo trovo un paese Molto concreto Molto terra terra Vabbè proprio Vedi la storia dell'umanità lì La vedi svolgersi davanti ai tuoi occhi E loro te la raccontano Anche con molta chiarezza Sono anche molto netti Successo tante volte Che degli amici indiani Venissero in Italia In vacanza con noi E più di una volta Dicessero Voi siete un paese Del terzo mondo Loro a noi Lo dicono Loro a noi Che tu all'inizio Dici Vabbè dai Poi te lo spiegano E ti dicono Ma per esempio Voi seppellite i morti Cioè voi Mettete delle persone In una bara Piena di piombo Colla Resine Eccetera Sottoterra Ci parlate di inquinamento Delle terre Delle fiumi Fantastico Li mettete sottoterra Li tenete lì E' chiaro che c'è una decomposizione Comunque Quindi che cosa sperate Non è che siete egiziani Che mummificavano Cosa sperate di ritrovare Questa è la vostra cura Non vi rendete conto Che non c'è niente Di più puro E purificante Del fuoco La cenere Addirittura Noi la usiamo La usavamo Per lavare le lenzuola Nel senso La cenere purifica Concima E quindi loro ti dicono Ma scusate Un'economia circolare Per voi non esiste Nel senso che io Sono utile Nato Morto Vissuto Spirito Sono sempre su questa terra 1 a 0 per gli indiani Invece voi bloccate tutto Lì dentro Inquinando la terra Da morire Su quello devo dire Forse hanno anche ragione Ma vabbè Non parliamo Del loro motale di rifiuti Sì certo Già quella cosa lì Mi ha fatto pensare parecchio Ti ha fatto pensare Ti ho detto Aspetta Noi diciamo India L'India è molto grande Quindi Come si fa ad accomunare Un pensiero Per tutti gli indiani Io penso che ci siano Delle situazioni Molto diverse Vediamo ad esempio La Bollywood Indiana Con sfarzo Opulenza E poi vediamo persone Che vivono e lavorano A ridosso Di rotaie Funzionanti Quindi con treni Che ti passano vicino Come ti passa Una zanzara Qua a Milano Quindi Di che India Stai parlando Anche di persone Che si possono permettere L'India è una persona Nonostante sia così Nonostante tanti stati Che ho girato quasi tutti Enorme Nonostante il miliardo E 400 milioni Una cosa pazzesca Gli indiani sono sempre indiani Ovunque tu vai in India Ovunque io vado Nord Sud Centro Est Ovest Indipendentemente Dalla loro Per me capire una cosa Un miliardo e 400 milioni Penso sia 10 volte l'Italia L'India più o meno Una cosa del genere Noi siamo 60 milioni Non riusciamo a essere italiani E loro ce la fanno essere indiani Come è la cosa Loro hanno un orgoglio nazionale pazzesco Che noi non abbiamo E' un'emozione per loro fondante Quello dell'orgoglio E a me è stupito molto Io sono andata in India Anche durante il covid Non dovevo andare Lo confesso Ci sono andata Più e più volte E' stata proprio la riprova Che le news che arrivavano Erano completamente sbagliate Perché ho trovato un mondo Molto diverso Da quello che ci aspettavamo Bruciano i morti per la strada Cioè l'India Dove il distanziamento sociale E' valorialmente impossibile Per loro è un disvalore Un disvalore assoluto E l'igiene L'igienizzazione E' un tema Ed è un grosso problema Dal covid doveva uscire Non decimata Una strage Devastata E' sempre lì Sta bene lì Quando io mi sono presentata Con la mia bella vaccinazione AstraZeneca Per la quale ho avuto Anche un po' paura di morire Perché è stata molto male Mi hanno detto Ah per fortuna che sei AstraZeneca Perché se tu fossi arrivato Erano già tri vaccinati tutti Sì Io ero neanche alla seconda dose Avevo prenotato la seconda dose Erano già tutti tri vaccinati In maniera capillare Ok Per fortuna che sei AstraZeneca Perché se fossi stata moderna E non scendevi neanche dall'aereo Perché l'altro è acqua sporca Quindi AstraZeneca È l'unico vaccino Che funziona Per fortuna avevo quello Va bene Ma la cosa interessante È che là dentro Mi hanno tracciato Hanno saputo Qualunque spostamento Io abbia fatto Un miliardo e 400 milioni Di persone Una foreigner qualunque Che arriva a terra E se ne va In un Io vado a fare i safari Vado a vedere le tigrie Ero isolata In un camp Sterrà 30 chilometri di sterrato Sono venuti a prendermi No E mi hanno detto Scusi ma La home quarantine Dove la sta facendo? Comunque La dottoressa Se l'è viaggiata De qua e de là Insomma Anche quando non si poteva Quindi grandissima Questo coraggio Ci ha offerto Un interessantissimo Punto di vista Molto molto insolito Rispetto a quello Che abbiamo noi di solito Verso l'India Fabio La ringraziamo È ora di chiudere Di già È ora di chiudere Sì Di già Ci rivedremo Lo dite a me Oggi non so come ho fatto Arrivare fino a quest'ora Dalle sette Che sono qua Non so neanche come ho fatto Arrivare quest'ora Ma devo dire Che nonostante questo Avrei lasciato comunque Ancora un'altra ora Assolutamente A voi due Perché è davvero Molto molto interessante Dottoressa Grazie mille davvero Grazie a voi Grazie a voi Siblia Grazie anche a te Quella che ci vediamo Semana prossima Fra due settimane Semana prossima non ci sei E se vuoi mi inviti Io vengo Non so Se sarò vivo Porto due cose da bere Da mangiare Anche un'attacchipirina Magari Grazie Che mi può sempre servire Grazie a tutti Grazie a tutti Andiamo con la sigla Allora Perché siamo in chiusura E quindi Sigla